Non tocca a voi, lasciate che mi goda il mio momento Il mio personaggio si chiama Gaston Lui è... ho sbagliato, si chiama Gil, figlio di Gaston Mio padre è il più furbo, il più svelto e il suo collo è il più forte del mondo A volte pensa e parla in modo scombinato, non sa bene che cosa succede Non è il più intelligente Uma lo tiene comunque con sé, è uno dei suoi scagnozzi ed è divertente Ha preso tutto quello che voleva senza lasciarmi niente No, ti ha lasciato la piscinetta, così potevi usarla per mettere a mollo Hai finito di interromperci I figli dei cattivi insieme sono come un piccolo clan Gil, Uma e Harry formano il trio del mal